È a rischio la sostenibilità dell'azienda USL per l'anno 2013. Lo ha detto il direttore generale Andrea Bianchi, questa mattina alla conferenza socio-sanitaria riunita in provincia. Ma il direttore non si arrende al calo di risorse nazionali e regionali e annuncia che nell'ultimo anno sono stati risparmiati 2 milioni di euro, un tesoretto che si tradurrà ai nuovi investimenti. La discussione dei sindaci è prevista il 28 giugno. Trespidi intanto anticipa il suo no all'area vasta. Oggi è un momento molto importante perché è la presentazione del documento contabile e finanziario dell'azienda che viene sottoposta all'attenzione, alla valutazione e nella conferenza del 28 giugno all'approvazione da parte dei sindaci del nostro territorio. Direi che a fronte di una difficoltà complessiva a livello nazionale per quanto riguarda il trasferimento di fondi alle realtà regionali e locali, il dato politico da mettere in evidenza è che il sistema sanitario piacentino non arretra rispetto all'offerta di servizi garantita dagli anni precedenti. Occorre però vigilare, e vigilare in modo molto attento, perché c'è una parolina, anzi due paroline, piuttosto maledette, che oggi vanno di moda ma che sono un grimaldello per scardinare un sistema, area vasta. Queste due parole che hanno già scardinato e messo a gambe all'aria il sistema idrico e dei rifiuti del lato provinciale, posizionandolo su una dimensione regionale, dobbiamo vigilare molto attentamente perché questo criterio che la Regione ha adottato per i parchi e per lato non venga adottato anche per la sanità. Grazie!